Era l'alba del 9 novembre del 1944 quando entrò a Forlì un battaglione scozzese della quarta divisione britannica. Quello fu l'inizio di una lunga giornata che segnò la liberazione della città. In occasione dell'anniversario di questa importante data, la città di Forlì ha preparato una grande festa e commemorazione. Ce lo racconta il sindaco che abbiamo incontrato alla caserma di Gennaro in occasione della festa delle forze armate. È il 75esimo della liberazione quindi abbiamo pensato di onorare quegli eroi, di onorare quel momento con una grande manifestazione in piazza. Ci sarà un onore per le nostre forze armate, un onore per gli alleati, per soprattutto l'ottavo corpo inglese che contribuì in maniera determinante alla liberazione con tutte le sue componenti. A quei tempi l'impero inglese rappresentava un mezzo mondo e quindi abbiamo cercato di riunire quel momento storico. Ci sarà poi la presentazione di un aereo storico del 1944, ci sarà il lancio di un paracadutista che porterà la nostra bandiera in piazza, ci saranno sfilate di mezzi storici. Qualche ospite particolare o importante? Ci sarà sicuramente il generale Lamanna che è il capo della divisione Friuli e quindi è quello anche che rappresenterà con il suo discorso lo spirito di quell'epoca, lo spirito di quello che vuole essere adesso impegnati nella difesa dei valori e dei diritti della nostra Costituzione.